Quella che sembrava essere una rissa tra persone di origine centro-africana venuta il 23 agosto nella golena del Piave al di sotto del ponte Vittoria, in realtà era una rapina. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Sandonà di Piave. I vari accertamenti e le testimonianze hanno permesso di ricostruire la vicenda anche grazie al fatto che erano coinvolte persone già note alle forze dell'ordine. Quella sera tutto è iniziato da un incontro apparentemente casuale tra due 22enni nigeriani e un gruppo formato da sei connazionali tra i 24 e i 45 anni, alcuni con precedenti per spaccio e furto. Si sono incrociati nel parco fluviale. A quel punto il gruppo ha aggredito i due più giovani, malmenandoli e derubandoli di soldi e cellulari. All'arrivo delle pattuglie sul posto era rimasto solo uno dei due ragazzi aggrediti, l'altro si era allontanato. Nelle settimane successive i carabinieri hanno individuato cinque dei sei autori del reato. Sono residenti a Musille di Piave, alcuni senza fissa dimora. Nei loro confronti ora c'è una denuncia per rapina in concorso. Il movente sembrerebbe derivare dalla volontà del gruppo di imporsi tra i connazionali della zona. Per uno di loro, un 32enne ritenuto particolarmente pericoloso, i carabinieri hanno proposto l'avviso orale del questore.